Incendio al Chiusello serve una via d'uscita, la strada è cieca. Lo racconta l'ingegnere Emiliano Venturi, residente sulla strada del Chiusello a Rio, interessata dalle fiamme che hanno colpito la zona lo scorso 21 agosto. Momenti terribili, dice, e prova a suggerire alcune soluzioni per rendere più agevoli le eventuali operazioni di soccorso in caso di emergenza. Eravamo io e la mamma qua sull'altana, sul terrazzo superiore della casa e stavamo guardando, diciamo, ci stavamo rifossando, rilassando, guardando la baia di Ortano. Mi alzo dallo sdraio, mi giro, guardo la collina del Chiusello, che sarebbe praticamente il versante est, da dove c'è stato un innesco, perché l'innesco è stato sulla provinciale 26, guardo la collina e vedo qualcosa di pazzesco, cioè praticamente tutto il crinale della collina era infiammato, con fiamme già a alte e svariate metri, sembrava un cratere in eruzione. E si vedeva, si aveva anche la percezione che questo incendio stesse scendendo velocemente. Ma la cosa che mi è sembrata più giusta fare, intuito l'ho avuto, è stato quello di prendere l'automobile, io e la mamma, percorrere tutta la strada del Chiusello, che poi ha una sola via d'accesso, non due via d'accesso e quindi non ha una via di fuga come tutte le strade devono avere. Questo vuol dire che se succede qualcosa, l'unica via non si rimane in trappola come topi e non c'è tempo né di scappare né di salvare niente, nelle vite e nelle proprietà, abbiamo fatto la via del Chiusello, ci siamo immessi sulla stradale 26, abbiamo fatto un paio di tornanti, da dove c'erano stati uno degli attizzamenti dell'incendio, c'erano già un paio di pattuglie con i camionetti dei pompieri, io sono andato a supplicare i vari pompieri, perché venissero a tamponare una situazione qua che diventava sempre più critica, perché era buio comunque sia, c'erano le fiamme, c'era tanto fatos e tanta tensione in giro, l'ho trovato, questa persona, io voglio veramente ringraziare pubblicamente, e parlo del direttore operativo innanzitutto, mi ha ascoltato, mi ha creduto, e poi forse preso un po' per sfinimento, mi ha detto, guardi, le do una squadra, ma deve essere lei a guidarli, a indicarli la strada dove andare, perché non sapevano di fatto neanche dove era la strada e il Chiusello per accedere, qualche, io faccio strada con la mia macchina, fin dove è possibile, quindi fino alla strada, fino alla SP26, scendo dalla mia macchina e la lascio alla mamma, e poi salgo a bordo della camionetta dei pompieri, veniamo qui alla mia abitazione, apriamo il cancello, utilizzano la mia abitazione, il parcheggio della mia abitazione, come avamposto per fronteggiare l'incendio, io metto a disposizione di loro, chiaramente, tutte le riserve di acqua che avevo, e poi il resto, il resto sono stati semplicemente meravigliosi, e io, tutt'ora quando ci penso, mi vengono priti. Credo semplicemente che questa strada non può avere una sola via d'accesso, perché questo è ciò che è risaltato agli occhi di tutti, protezione civile, pompieri, è una situazione nemmeno legale, quindi questa strada deve avere due vie d'accesso, deve avere una via di fuga, tra virgolette, che sarebbe velocissima da fare, una soluzione banale, che ci permetterebbe di ricongiungerci alla strada d'Ortano, perché c'è qua di dietro la possibilità di connettere la strada d'Ortano principale, che poi diventa, che poi diventa, c'è una deviazione e va qui sulla spianata della pianura, e che poi si rialza, c'è una pettata di circa 200 metri, e ci permette di arrivare al luogo dove siamo noi adesso. Quindi quello che io chiedo è semplicemente che venga creata una via di fuga, e quindi la strada del chiusello abbia i doppi accessi, non il singolo accesso. Questo come minimo, e che questa via di fuga chiaramente consenta ai mezzi operativi, pompieri, nella fattispecie o quando ce n'è bisogno, di poter fare tutte le manovre di accesso, di sosta, di manovra in maniera agevole. Questo per ottimizzare e rendere efficaci tutti gli interventi.